musica eccoci qui che siamo qua nei press della nostra prossima missione di vendetta un vendicare di quella che ci ha ucciso maledetto allora non so chi comanda ma dovremmo infilare la testa su un palo uccidiamo lui ok via missione per dispensare la giustizia contro i traditori i nemici rivai e gli uruk spesso si offrono volontari come boia se non viene fermato il boia crescerà il suo potere ok vai effettivamente potrei essermi dimenticato di cercare informazione adesso che ci penso questo qua è davanti a un'esecuzione ok e abbiamo un informatore tra tutti sono un bel po' aspetta eh provo a ucciderlo così perché l'informatore mi sa che è legato ma qui stanno i colori è lì proviamo proviamo a fare tanto ci vedrà uguale vediamo non funziona vabbè pazienza pazienza no l'hanno ucciso bastardi che sono tantissimi però porca va a parte che no mi hanno visto ma non mi inseguono vabbè aspetta arrivano 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 proviamo a batterli tutti sarà dura ma ti uccideremo come esecuzione missione completata vabbè sì non è riuscito a giustare i suoi pigionieri ok va bene però adesso dobbiamo uccidere lui questo è il problema ma però metà vita gliel'abbiamo tolta eh oh no stavo schivando e meno male che si colpiscono anche tra loro ecco fuori uno uff anche un karagor vai magari mi da una mano ah li odia porca vacca vabbè sei incazzato vabbè intanto però mi da una mano magari con gli altri aspetta no perché c'è lei con me aspetta facciamo così voglio andare su perfetto aia vai sono su vai vai dove vai il karagor dove vai il karagor là perfetto così è vero se lo abbiamo amico domina karagor usa ok il solito sistema così vai vai mordi attacca il karagor mentre se ingroppa un karagor premi x per attaccare y per mordere uccide i nemici terrati o ignali e guarisce il karagor ti premuto l per usare la modalità a distanza ti premuto rt più tocca per eseguire un colpo dall'alto e smonta via aspetta ecco smonto aspetta boccio boccio è così magari appunto il nostro alleato ci dà una mano intanto li abbiamo uccisi tutti vedi se si è incazzato ecco però no troppa vita troppo alta bucca vediamo riusciremo a dominare anche l'altro magari karagor ah no l'ha ucciso bastardo aspetta 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 terminerà l'effetto voglio dire della intanto la vita è un po' bassa aspetta ma è rimasto solo lui mi sa ok qua sotto tra l'altro vabbè mi sa che allora dobbiamo per forza scendere vabbè bastardo ucciso il karagor ok è finito l'effetto adesso è normale ok oh togliamogli un po' di vita vedi di sparire sparisci ok oh voglio informazioni grazie non resistermi oh bene vediamo non saprei ma si facciamo questo qua che era quello nuovo octag collezione orecchie si infiamma di orgoglio di essere un capitano dell'esercito di salon punti deboli li vedremo magari anche se no un po' vabbè punti deboli e punti di forza se ci interesserà va bene oh abbiamo sceso lui ok è la tua fine perfetto potenziamenti vabbè è rimasto solo questo praticamente lo prendiamo ok li abbiamo presi tutti praticamente adesso e ci mancano questi no sono sempre abbastanza potere devo potenziare un po' il mio potere ok vediamo la la runa questa qua quello che fa probabilità del 33% di recuperare 4 pezzi quando si esegue un prosciugamento o un marchio mi sa che noi non abbiamo né uno né l'altro quindi è un po' inutile metterla ok ok acqua potremmo eh quasi quasi potenziamo si la concentrazione ecco si perfetto completa per ottenere potere e sbloccare nuovi livelli di abilità ok si è quello che avevo l'intenzione di fare quindi dovremmo eh dovremmo queste tipo si queste ah ma c'è ancora questa eh si però non sappiamo niente di lui meglio evitare stavolta ok allora allora fammi pensare qua però ci sono delle missioni vicine e c'è un segno qua aspetta già che sono cos'è ah un mostro va bene qua c'è un segno un qualcosa dov'è che è qui qua ok preso perfetto piano piano si sta facendo sto disegno bene ok allora allora facciamo questa qua dell'arco va visto che è qua permesso scusi permesso va passare grazie ok pietà rapida dopo aver maledetto i nemici le sue frecce portarono una fine rapida le loro sofferenze foggia la leggenda dell'arco azgar ok vediamo che missione è questi uro che sono indeboliti provo a usare tiri rapidi per ucciderli uccidi aspetta 4 uro senza abbandonare modalità concentrazione ok l'abbiamo già consumata un pochino ancora non lo vedo vabbè vai io continuo ho fitto i prezzi di etici aspetta vai no aia non ho più concentrazione vabbè proiettili grazie ok quanti sono 3 ah ok ho avuto successo bene missione rapidissima quindi attenzialmente completa tutte le ok missioni con l'arco con la spada col pugnale vabbè e le altre missioni secondari per guadagnare miriam si guadagni abbastanza potrai acquisire abilità potentissima per il tuo arco la fiamma di akhzhar ti concederà una breve serie limitata di proiettili elfici concentrazioni e frecce infuocate interessante interessante quindi abbiamo questa la belva feroce facciamoci questa si si ma io mi ricordo anche se c'è queste missioni non mi ricordo però nella prima partita che feci le feci tutte avevo trovato anche tutti i collezionabili tipo le sfide no le sfide non le avevo fatte ma questi collezionabili manufatti quelle cose lì le avevo trovate tutte quello disponibile la belva feroce cavalcò tra le loro fila inserla una bestia mostruosa facendosi largo come una lama e difomendo il terrore ovunque andasse forgia l'ingegnere la spada di urfael obiettivo uccidi cinque uccidi gli uro con gli attacchi con gli attacchi con morso di caragor cinque ah ok devo inserla una bestia va bene ah ok lo controlliamo aspetta no ho sbagliato tasto aspetta oppla pareva che sbagliavo vai su ecco peccato che sono dall'alto per ora mi pare che si possono controllare anche da terra più avanti ok allora ora tacchino ah c'è il te no vabbè il tempo veramente è odioso aspetta andiamo qua eccomi perfetto ok dove sono dove sei ma basta scusa eh ecco ci sono ci sono messo preso preso no ok vai così manca là guarda come agile nostro car agor strana luce arcobaleno eccoci qua mancano loro quello con lo scudo ok no no poi sciuta che aspetta allora questo scudo oh mangia mangia bestiolina ok potenziamenti per armi completa tutte le ok missioni della spada per la tempesta di urfa rettivamente di scatenarti per un breve periodo emettendo esecuzioni limitate urca va bene ma adesso io sono qua vorrei se faccio prosciugo forse ci ricarichiamo la vita all'iscapito della sua può essere prego prego sei libero sei libero allora qua ci abbiamo una missione tra l'altro uno scontro no ma io volevo fare queste qua questa questa qua dobbiamo guadagnare potere ok no di là fa comodo scendere così sfide strana luce libera gli scapes ok missioni di salvataggio dei reietti che omita cosa ho fatto ah lo sto prosciugando ok no ho sbagliato no vabbè proviamo ecco grazie a te 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 non sanno tenere la bocca chiusa ah ci sono tante missioncine da fare aspetta si parte da qua in alto c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno adesso vediamo adesso vediamo ok fammi vedere esatto esatto questo visualizza ecco ah ecco può essere ucciso in maniera stealth può essere affiato se dovrebbe avere salute bassa ed è terrorizzato quando brucia perfetto ok allora lì c'è un tipo ma aspetta il capo dice che il senza morte ha ucciso altri uruk potrà avvenarci la prossima volta o cannone possiamo prenderlo alle spalle c'è il falò potrebbe saltare in aria effettivamente ed è terrorizzato quando brucia quindi direi che è ottimo però deve avvicinarsi un po' vediamo forse così lo prendiamo eh paura di bruciare esatto ok ho diciamo interrotto il bancaire no ho scappato ok però ce l'abbiamo ancora lì eh possiamo ammazzarlo oppure prendere informazioni aspetta eccolo arrivo permesso permesso uno contro uno ramico merda devo avere un ostacolo se no non lo scatto va che casca perfetto dov'è dove sei dove sei oh era qua ah è rimasto su ma guarda dove vai vieni qui dai che ti prendo aspetta no vieni qui maledetto oh dai scendi scendi preso preso oh bene dunque che scopriamo lo sappiamo già boh questo qua e purtroppo non sappiamo quello là che ci aveva ucciso la prima volta cioè che dovevamo uccidere ma che ci ha ucciso era forse un capitano però allora forse proviamo questo qua no non era lui però vabbè k 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 l'abbè contento lui io perfetto ok abbiamo guadagnato una runa questa qua sbaragliare recupera il 46% della concentrazione con uccisione da turbine ok non l'abbiamo il turbine è qua fino alla morte recupero il 37% della concentrazione con le uccisioni da coltellata compresa va bene potere più 5 guarda che siamo in una locca forte io direi di assontanarci un attimo sta pure grandinando ma io avvio questa missione così smettono di seguirmi ecco la tormenta di guerra i semi dell'oscuro signore erano sparsi tutta Uru al cavallo della sua bestia si aggirava rapidamente tra di loro e li colpiva come un fulmine vabbè ok cosa devo fare? ok cavalchiamo il caragon va bene ok trovo la pattuglia di esplatori Uruk completa entro 5 minuti e devo ammazzare vabbè ok quindi a 1000 piedi andiamo andiamo ucciso di esploratorio con frecce con le frecce mentre cavalco ah beh giustamente era una pattuglia era una missione della con l'arco no no merda non è morto ok preso 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 ok però forse ho bisogno di altre frecce adesso ne ho una qua ci sono aspetta smonta un attimo che devo fare il pieno scusi sai che sono qui va giù guardate giù 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 qui 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 perfetto caragall vieni qua ok andiamo a 2000 piedi adesso vabbè anche andare in giro così non è male non hai lo scatto elfico però dai ok eccoli là dai dai che dopo ho una terza tappa fermi tutti opla oh preso 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 ok adesso ho bisogno di frecce qui qui ce n'è c'è un punto preso si ok presto presto corriamo abbiamo ancora due minuti e mezzo ce la possiamo fare ah però di qua no di qua non si può andare devo forza passare di qua permesso scusate permesso non volevo si si scatti pure l'allarme tanto non ci devo entrare aspetta mappa mappa era non è segnato sulla mappa madonna vabbè andiamo di qua speriamo sia in la direzione giusta aspetta volviamo ecco ecco si ci siamo dai no non ci blocchiamo fermi tutti aspetta l'ho visto qualcosa ok missione ah missione completata bene allora ci diamo anche lui già che ci siamo che fai lo lasciamo in vita cioè io non lo so ok puoi andare puoi andare la vita ce l'ho tutta ma la concentrazione no vediamo caccia ora disponibile qua c'è un fiorellino rosso aspetta oh no sei morto ti caduti ora disponibile salva i miei amici hanno lavorato così tanto che quasi non si reggono in piedi ma io non ho fatto niente però va bene grazie come se li avesse aiutati vabbè ok va bene allora prossima missione prossima missione vediamo qua ci abbiamo altre missioni dei reglietti e boh vediamo vediamo qua altre ma do continuano a sbucare missioni incredibili